respiro, respiro, ancora, ancora, fammi, 4, 3, ancora, 2, occhio, rimango in centro, dammi spinta, 1, 2, 3, 4, ancora, 5, piccolo bounce con le gambe, vado in su, 8, 7, 6, 5, ancora, 4, non, ci stiamo soltanto riscaldando, 4, vado in 4, 3, 2, 4, su, 4, 3, 2, 2 avanti, 2 avanti, 2 avanti, 2 su, 2 in su, ancora, 2 avanti, 2 su, muoviti quelle gambe, singolo, avanti, in su, avanti, in su, ancora, 4, 3, 2, di nuovo faccio, 8, 7, 6, 5, ultimate, 4, 3, occhio, guardami, vado e fuori, 2, 3, 4, 5, 6, 7, continui, 8, 7, abdome, piccolo piccolo contrazione dell'abdome, mi aiuto con il braccio, continui, 8, 7, 6, 5, ancora, 4, 3, 2, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 8 dall'altra parte, fai piccoli movimenti, oscillatore, tira, 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 che poi, da domani, il challenge del mese, sono proprio punto vita, così, avremo una vittina da Vespa per Natale, ancora, 8, 7, 6, 5, ancora, 4, 3, 2, ultima 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dammi 8, destra, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8, sinistra, 8, 7, 6, abdominali sì, 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 4, 3, mi dai 4 destra, 4 destra, 4, 3, 2, 4, vai, 2, 1, 4, 3, 2, ultime 4, 4, 3, dammi 2, faccio 1, 2, 1, 2, 1, 2, e mi dai singoli, l'esame singoli, ultimo, 8, 7, 6, 5, ultimo, 4, 3, 2, marcia, 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 ok, respira, respira, respira ancora, 4, 3, occhio, guardami qua, step touch, step touch, step touch, ok, step touch, però porto il piede in avanti, faccio, step touch, step touch, step touch, ancora, step touch, step touch, ancora, 4, 3, 2, piccolo salto, 4, 3, 2, destra, 4, 3, 2, and gira, 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 di nuovo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, and gira, gira, occhio, venite in avanti, 4, 3, rimango qua, jumping jack, 4, tallone bassi, chiudo, 4 e alza la ginocchia, 2, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 1, chiudo, avanti, 4, 3, 2, 1, up, 4, 3, 2, 1, up, 4, 3, 2, 4, 3, 2, and da capo, and it's step, Vai, vai, gira, 4, 3, 2, ancora, 4, 3, 2, gira, gira, 4, 3, 4, in avanti andiamo, 4, 3, braccio su, 4, spinto 4, chiudo 4 qui, ancora, gira, 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 4, spinto 4, chiudo 4, siamo riscaldando, ancora, 4, 3, 2, 4, spinto 4, chiudo 4, 4, 3, 2, ci siamo, spinto 4, chiudo 4, occhio, marcia, 1, 2, 3, touch and 1, 2, 3, touch, 1, 2, 3, touch, 1, 2, 3, touch, 1, 2, 3, touch, ok, alza le ginocchia, touch, alziamo, alziamo le nostre intensità, ancora, 4, 3, 2, torno su, step touch, solo step touch, laterale, laterale, piccolo bounce, piccolo bounce, 4, ok, ci siamo, tutto da capo, e piedi in avanti, piedi in avanti, piedi in avanti, gira, piccolo salto, 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 piedi in avanti, vado, 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 piedi gira, 4, 3, braccio su, and 4, 3, 2, jumping jack, 4, 3, 2, and up, and braccio su, 4, 3, 2, jumping, avanti, faccio 4, 3, 2, jumping, 4, 3, 2, and up, indietro, 4, 3, 2, ci siamo, apro, occhio, up, vai su touch, 1, 2, 3, touch, touch, usa il braccio, bam, 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 verso basso, vai, touch, touch, tanto movimento che ci alza il nostro battito cardiaco, dammi ancora, 4, and 3, and 2, occhio, step touch qui, con un bounce, bounce, bella bounce, dai, bello in alto con quelle gambe, bello in alto con quelle gambe, ancora, 8, 7, 6, 5, ancora, 4, 3, braccio, vengono su, ci siamo, ancora, tengalo su, perché ritorniamo sulle braccia, perché quella inalza l'intensità, spinta in su, 4, 3, 2, avanti, come mi ho fatto prima, 4, 3, 2, dammi due su, due su, due avanti, due su, ancora, rimangono avanti, and frula, frula, vai, frula, 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 braccia, braccia, muovi le gambe, ci mancano due minuti, poi andiamo a fare la parte, più, aerobico di tutto, tutto da capo, apro le gambe, vengono avanti, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, gira, 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 apro, chiudo, apro, chiudo, vai, vai, gira, in avanti, 4, braccio su, 4, 3, 2, 4, apro, indietro, braccio, braccio indietro, usa la braccia, alza l'intensità, 4, 3, 2, 1, up, avanti, 4, 3, 2, come on, 4, dobbiamo riscaldarci, ci siamo, cuore indietro, 4, 3, 2, apro, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 3, touch, 1, 2, alza le ginocchia, respira, abbiamo quasi finito, 4, and 3, and 2, step, touch, semplice, vado, respira, respira, ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo, con le braccio quasi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, braccio su, 4, 4, 3, 2, avanti, 4, diventano 2, faccio 2, 1, in avanti, 2, ultima volta, occhio, occhio, dammi, singoli, vado, oh, oh, vai, 2, vai, 3, vai, rimangono avanti, frulla, 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 usa le braccio, usa le braccio, usa le gambe, ok ragazzi, ci mancano 31 secondi, ok, 10, 20, 30, ancora, ancora 5 secondi, poi ti spiego, ti do 20 secondi di spiega, stop, ok, adesso è tutto, 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 tutto di scatto, 10 secondi, 20 secondi e 30 secondi, prima 10 secondi sono maniac, secondo 20 secondi sono jump squat, ok, 7 secondi maniac è proprio il più veloce possibile, quando dovete modificare il movimento, lo fai 10, go, vai, giri anche, vai, sono 10 secondi, poi andremo a fare jump squat, 4, 3, 2, jump squat, giù, le ginocchia sono leggermente fuori, seguono il dito, medio del piede, poi dovrete prendere i pesi, 30 secondi di pesi, sono un po' meno di 30 secondi, dai, ancora 5, 4, 3, 2, 1, pesi, ok, bicep curls, su, and, su, spalle allungo, ok, allungo, su, and, respira, 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 ok, 10 secondi, poi metteremo giù, le ultime 5 secondi metteremo i pesi giù e andremo a fare salta la pozzangra, 5, poggia, salta la pozzangra questa, vai, 10 secondi, poi c'è il sumo squat, pliometrico, 5, 4, 3, 2, 1, 1, apro, sumo squat, 20 secondi, poi prenderemo i pesi e faremo la bellezza di circa 25 secondi di alzata laterale, dai, 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 ancora 8 secondi, dai, 3, 2, 1, prendi, pesi, piega le gamba, gomiti piegate e andiamo, respira, ancora, ancora, bravi ragazzi, 14 secondi, ultime 5 secondi mettiamo giù, che le prossime 10 secondi sono skip e poi jump jack, pliometrico, 3, 2, poggi i pesi, pause, skip, vai, ginocchio su, 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 jumping jack, pliometrico, 3, 2, 1, vai, respira, ferma, anche non troppo alto, ok, la cosa importante della fondo, non lo salto, fondo, mi blocco, ok, prendiamo i nostri pesi, spinta in alto, spinta in alto, 2, 1, ok, spinta in alto, su, spinta, scendo, respira, su, vai, sempre la stessa cosa ragazzi, ci siamo, via, ok, vai, ancora, 9 secondi, 8 secondi, appoggio, knee up, portate la destra in avanti per 10 secondi, su, su, sempre la stessa, sempre la stessa, sempre la stessa, vai, 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 ancora, 30 secondi di questo movimento, 30 secondi, è tutto, è pliometrico, è intenso, se non riuscite a fare il salto, vai soltanto knee up, poi dobbiamo fare extensions, triceps, 2, 1, relax, ok, gomiti indietro, spalla indietro, allunga il colo, stendo, torno, vado, ancora, provate di non lanciare con la schiena, è le braccia che si stendono, braccia che si stendono, dopodiché, dobbiamo cambiare knee up, 30 secondi, 30 secondi, sinistra viene avanti, appoggia, lavoro veloce, su, su, come se si, provando di volare via, vai, su, ancora, ancora 20 secondi di questa, su e giù, su e giù, dai, dopo questi abbiamo due minuti di abdominali, è ancora una sorta di recupero, senti come attiva il gluteo, 4, 3, 2, stop, alzate frontali, un peso alla volta, gomiti, su, su, vai, su, respira, ok, 13 secondi, poi metteremo giù i pesi e prenderemo i tappetini, ok, ancora, ancora, appoggia ragazzi, giù, tappetini, tutti giù, grazie, andiamo, ok, su con l'abdomen, tiro su, dammi 25 secondi, su, 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 tiro su, ok, ancora 18 secondi, tiro su, su, ok, dopodiché porteremo sempre da plancia il fianco destro verso basso, gira il fianco destro verso basso e fai lo stesso sollevamento, su, tira, tira, ancora dai, 30 secondi ragazzi, 30 secondi, che sono adesso diventate 18 secondi, solo il fianco destra, leggermente in basso, se dovete recuperare, abbassate le ginocchia per un po' di tempo, ma poi il minuto che senti, diciamo, la possibilità di rientrare, cambi, fianco sinistro giù, 30 secondi, ok, la cosa importante è di continuare, di, di, di lavorare al tuo livello, ok, con la tua forza, ok, grazie Lula, Lula, Lula tutti quanti giù sulla schiena, 20 secondi.